La Valdivara si sta preparando a festeggiare l'apparizione al Santuario di Roverano e la Natività di Maria con diverse iniziative. È Don Giorgio Rebecchi, rettore del Santuario, a darci conto del programma delle celebrazioni. Il 7 e l'8 settembre si svolgono le feste al Santuario. Il 7 è la giornata in cui si ricorda l'apparizione della Madonna. Al mattino c'è la messa dalle 8, 9, 10 e 11, alle 11 la messa solenne che tradizionalmente è celebrata dal parroco di Lago. E nel pomeriggio alle 16 la benedizione dei bambini con l'offerta dei fiori alla Madonna. Alle 17 il canto del Vespro e la processione. Poi per chi vuole c'è un'altra messa, poi all'ultima della sera alle 21. L'8 settembre è Natività di Maria Santissima, anche qui festa solenne al Santuario, iniziando al mattino dell'8 alle ore 8, fino a mezzogiorno ci sono le celebrazioni della messa. Nel pomeriggio, potremmo dire la novità di quest'anno, è che c'è a disposizione un pullman che parte alle 15 da qui dalla città, da via Sardegna, di fronte alla parrocchia di San Paolo, via Autostrada, per arrivare poi al Santuario e permettere a chi lo desidera vivere le pratiche di devozione, la confessione, la preghiera e stare un momento nel clima di festa che c'è al Santuario. Alle 17 la Santa Messa Solenne, presieduta da Monsignor Vescovo, e alle 18.30 il pullman farà rientro in città. E nuovamente poi si chiuderà la celebrazione della giornata alle 21 con la Santa Messa. Il giorno dopo c'è anche il ricordo per i devoti, i benefattori defunti, alle 17 il 9 di settembre.